Ciao a tutti, eccomi qua con una videoricetta su richiesta. Tra i vari commenti ricevuti una di voi mi ha chiesto di realizzare queste ricette, precisamente la ricetta della salsa tonnata. Questa è una ricetta facile, veloce e anche molto buona. E' ottima sia da mettere sul pane che per preparare i panini. Per prepararla avremo bisogno di due cucchiai di capperi, 150 g di tonno, due filetti di alici e 100 g di maionese. Inizio col mettere tutto all'interno del mixer e poi vado a frullare. Metto i capperi, il tonno. Le alici e i 100 g di maionese. Ora vado a frullare il tutto fino ad ottenere la consistenza desiderata. Ecco qui la nostra salsa tonnata è pronta. Ora ve la faccio vedere sul pane. Ecco qui la salsa tonnata è pronta. Una ricetta semplice, veloce e molto buona da preparare. Io ve la consiglio, ringrazio tanto l'amica che mi ha richiesto questa ricetta. Se vi è piaciuta, la provate a realizzare e fatemelo sapere. Ciao a tutti e al prossimo video. Ciao!